Ragazzi, buongiorno. Oggi Gianni è veramente puntuale, quindi vedremo se ti potrò perdonare per gli errori fatti nello scorso episodio, che se non l'avete visto, ovviamente, ragazzi, ve lo lascio in descrizione. Oggi dobbiamo fare un sacco di cose, quindi mi raccomando, per supportare questa serie che ho visto che vi sta piacendo, mi raccomando un bel like nella bella descrizione, a te la campellina per restare i giornali su tutti i prossimi episodi e direi che possiamo iniziare. Allora, come vedete ho già riordinato un po' tutto, ho già rimesso sugli scaffali. Oggi dovremmo sicuramente ampliare il negozio, quindi prendere una nuova sezione che ci va a costare. Intanto apriamo, non mi ricordo neanche, ci costa 750.000, che sicuramente a fine giornata ci arriveremo, e poi abbiamo una nuova licenza, 550.000, perfetto, adesso vediamo. Per fortuna, ragazzi, che c'è Gianni che fa tutto il lavoro al posto nostro, noi non dobbiamo fare assolutamente niente, per ora almeno. Si siamo a 783 dollari, potremmo già prendere la sezione. Vediamo, perché potremmo anche già prenderla, eh? Perché no? Perché no? Potremmo anche già prenderla. Ma io faccio questa pazzia, ragazzi. Noi la prendiamo. Boom! Terza sezione acquistata. Ole! Ole! Allora, questo intanto lo spostiamo fin dietro, assolutamente, e lo mettiamo così. Poi questo lo prendiamo e lo spostiamo di qua. Questo lo spostiamo, lo mettiamo qua. Questo lo potremmo girare, perché no? Tipo così, potremmo metterlo. E questo lo mettiamo attaccato. Così. Beh, ragazzi, ora c'è molto, ma molto più spazio. Ora c'è molto, molto più spazio. Ci serviva, per forza. Così, almeno possiamo prendere dei nuovi prodotti, appena magari finisce questa giornata. E poi dovremmo prendere, ovviamente, altri scaffali. E non so, magari se prendessi un'altra cassa potrei aiutare a Gianni. Però non so, perché costa 500, cioè non costa poco. Nel senso, diciamo che siamo un po' a corto in questo momento. Perché abbiamo ampliato adesso il negozio, quindi non è la cosa proprio principale che ci serve, ecco. Eh, ci servirebbe anche dei punti luce, sì. Anzi, questo che facciamo lo spostiamo un po' più qua. Tipo qui. Ok. Il succo alla mela, il succo alla mela, il succo alla mela è finito, il succo alla mela. Eccolo qua. Dammi ne due, va? Forse anche una bastava, ma vabbè. Prendiamo ne due, va? Non si sa mai. Sono già le 9, è già finito il giorno, ma qui è ancora pieno. Clienti soddisfatti 38, niente, niente prodotti non trovati, niente prodotti troppo costosi, il resto sbagliato. Vabbè, ovviamente zero, perché non l'abbiamo fatto noi. Se era uno, Gianni già andava fuori. Iniziamo il giorno seguente. Allora, il succo arancio è salito, l'olio di oliva è salito, il burro di arachidi è salito, ok. 2.54, 2.54, poi il burro di arachidi è salito e l'olio è salito, mi sembra, giusto? Sì, 6.40, benissimo. 6.40 e il burro di arachidi, 5.00, vabbè, minca, di 2 centesimi. Mi farà diventare ricco questa cosa. Intanto direi che possiamo aprire. Farina, la mettiamo qua, perfetto. Adesso, questa puntata vorrei anche risistemare un po' tutto, soprattutto gli scaffali, mettendo tipo una parte solo pasta e farina, non lo so. Potrebbe essere un'altra parte solo bibite. Adesso vediamo se riusciamo. Un'altra licenza? Bisogna prenderla assolutamente perché gli si bloccherebbe altri prodotti. A parte mi faccio una domanda come fa tutte queste cose entra in un sacchetto del genere, ma va bene, ok. Stanno prendendo gli spaghetti, il caffè c'è ancora, il nero ce n'è, l'olio. L'olio, l'olio, ecco cosa mi mancava e da poco non lo ordinavamo. Guarda, guarda, tutti a prendere i cereali, incredibile, sono già finiti. Cioè, ho preso di testo due scorte e sono già finiti. Io non lo so, la luce che sta diventando notte, ok. Forse a mille con tutti questi ci arriviamo. Eeeh, le persone che stanno entrando, è pieno. Anche lei signora? No, lei no? Lui viene qui sicuro, guarda, ci scommetto? 100 euro? Era scontato che venisse? Era ovvio. Dai, dai, questa giornata arriviamo a mille e la prossima riusciamo a prendere già la licenza dei nuovi prodotti, eh. Già me lo sento, me lo sento che ci riusciamo. Ah, a parte non ho visto i nuovi prodotti, eh, se vanno tipo scaffale, frigo, freezer anche, perché noi adesso non ce l'abbiamo, quindi bisogna un po' vedere se ci riesco ad andare sempre, eh. Licenza, allora, torta, torta, dolci. Allora, abbiamo due torte, praticamente, dolce, altri cereali, barrette di cioccolato e yogurt. Ecco a trovare burro, non ci credo. Eh, ho pure sbagliato. Era appena finito, signora, e niente, avremo un cliente. Va bene. Uh, lei ha un sacco di cose, benissimo, benissimo, 54, 60, 64, benissimo. Anche lui, non poche cose, eh, non poche cose. 36 clienti soddisfatti, uno non trovato, il burro dei rachidi alla fine, però va bene, abbiamo un profitto di 736, quindi va benissimo. L'olio d'oliva è salito e il tenero è salito, quindi l'olio d'oliva 6.56, sta salendo un botto e il tenero è salito di un botto, 5.97. Dobbiamo anche ordinare il tenero. Tenero, 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 eccolo qua, perfetto. Torniamo tutto, 265 dollari che se ne vanno. Allora, io intanto direi che nel mentre che sistemiamo, io direi anche di aprire, ma sì, perché no? Basta. Boom, ripiulliamo tutto. Ai spaghetti forse non c'era neanche bisogno, ma ok. Questo è il tenero, io volevo il burro dei rachidi per vedere se riuscivo a metterlo prima che arrivasse qualcuno che lo volesse, ma ok. Dove è il burro dei rachidi? Questo no, questo che cos'è? Burro dei rachidi, eccolo qua. Perfetto, se qualcuno lo vuole non si può lamentare. Allora, turco, poi, 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 farina, possiamo ordinarne uno. Qua c'è ancora tutto, qui c'è magari un olio d'oliva, ok, perfetto. Allora, abbiamo detto una farina minimo, un olio d'oliva, ma ordina neanche uno di uova, uno di latte, perché no? E l'ho detto la turco, perfetto, boom. Allora, abbiamo 832, allora, alla fine giornata sicuramente ci prendiamo la nuova licenza, sicuro, al 100%, su questo sono abbastanza sicuro. E intanto potremo prendere già un frigo, perché no? Ma sì, dai. Prendiamo tanto già un frigo? Un frigo B? Bam, preso. Intanto ci andranno, eh, là. Ci andranno i nuovi prodotti, sicuro. Eccolo qua. Che metteremo? Eh, non lo so, sai? Potremmo metterlo qui? Ok, dai, ci può stare. Ci può stare, ci può stare, ci può stare. Ci può stare. Occupa un po' di spazio, ma neanche troppo. Cioè, ci si passa molto, ma molto bene. Molto, molto bene. Molto, molto bene. Abbiamo preso anche il nuovo frigo. Ci metteremo i nuovi prodotti, assolutamente. È finito il caffè. Oh mio Dio, è finito il caffè. È finito il caffè, bisogna comprarlo. Veloce, 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 veloce. Caffè, 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 caffè. Dammi le due. 89 dollari che se ne vanno per il caffè, mamma mia, un sacco. Ottimo, ottimo così. Ottimo, ottimo. Bene, 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 bene. Forse anche questa giornata arriviamo a 1000 dollari. Potrebbe, come non potrebbe. Ma potrebbe. A 1000 dollari sarebbe il top. Adesso prenderemo la nuova licenza, finalmente. Allora, prima di tutto direi di andare dalla banca, pagare, oh shit. Volevamo prendere la nuova cosa? La nuova licenza? Noi la prendiamo comunque. Anche se costa 550 mila. Magari qualcosa non avremo, non importa. Boom. Prendiamo. Bene, sarà stato un errore? Forse sì. Ma non importa. Ma non importa. Eccoli qua. Eccoli qua. Torta. Torta dolci. Ah, queste sono delle caramelle, ok. Cereali, barretti di cioccolato e yogurt. Dove vanno? Scaffale, 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 scaffale. Frigo. Ah, ah. Andavano tutti negli scaffali, non nel frigo. Benissimo, benissimo. Allora, intanto prendiamo uno di tutto. Se riusciamo a prendere uno di tutto, perché non so. Ma forse sì. 150 riusciamo? Sì, riusciamo. Direi che intanto possiamo aprire. Allora, questo scaffale, giusto? Mettiamo di qua. Boom, 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 boom. E sezziamo, e mettiamo assolutamente subito il prezzo. 5.60, 62. Poi abbiamo queste che sono le caramelle che mettiamo in fondo. Bam, 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 bam. Boom. E mettiamo subito il prezzo. 4.18. Arrivo, signora, eh. Arrivo subito. Quale torte le mettiamo qua sopra? Ottimo. Un sacco di torte. Benissimo, benissimo questa cosa. 4.20. Poi abbiamo... Questo non mi ricordo neanche che cos'era. Ce lo metteremo a fianco. La torta, perfetto. 2.10. Poi abbiamo il cioccolato. Che metteremo qua sotto, vicino alle caramelle. Un sacco di cioccolato, benissimo. E questa signora sta prendendo adesso il cioccolato. Non ci credo però, è 3.92. Veloce. Ok. Forse me lo conterà, non so quanto me lo conterà, ma ok. E questi sono i tortini. Un botto sono, sono un botto. Mamma mia. E mettiamo subito il prezzo. Velocemente anche. 2. Perfetto. Adesso bisognerà ordinare pure il restante. Questa signora aveva preso il cioccolato. Questa qua dopo. Vediamo se lo conta con il prezzo che ho messo prima. O me lo conta col prezzo che c'era. Vediamo. Ecco lei ha preso il cioccolato. Vediamo un attimo. 4.20. 7.73. Cioccolato. L'ho venduto a 1.78. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. L'ho venduto a 1.78. Ma porca miseria. E io po'. Pena oltre non ho messo i prezzi. L'avevo messo un attimo buttato la scatola fuori. Niente. Questa ha preso il cioccolato. Va bene. Ottimo. Che cosa sta finendo? Questa che non mi ricordo come si chiamava. La bibita. Non so chi sia. La cola. La cola. L'acqua dove bisogna prendere. Poi ricordiamoci. L'acqua e il formaggio. Mamma mia ragazzi. La perfezione. La perfezione. Nonostante abbiamo preso la licenza prima di aprire. Allora il latte è sceso. Il riso basmati è salito. Il zucchero a vero è salito. Ok. 11.19. Poi il riso basmati è salito. 7.82. E lo zucchero su su è salito. 5.71. Perfetto. Da adesso in poi non ordinerò più niente. Quindi se qualcuno a fine giornata si lamenta. Non ci cambierà niente. Guadagneremo meno esperienza. Ce ne faremo una ragione. Ok. Abbiamo finito. Boom. Si sarà lamentato qualcuno? Uno. Vabbè. Mi dispiace. Piacere. Vabbè ragazzi. Spero che questo quarto episodio di Supermarket Simulator vi sia piaciuto. Vi direi di finirla qui. Mi raccomando. Supportate con un bel like. C'è un bel iscrizione. A te la campanella per il terzo giornale sui prossimi episodi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Noi ci vediamo in un prossimo video.